L'assessore del comune di Caserta, due dirigenti e un dipendente imprentitore sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine sull'affidamento di lavori, le ipotesi di reato, corruzione e falsità in atti pubblici. Questo modo superandi nella stessa zona potrebbe essere la medesima banda dietro le tre rapine messi a segno nel giro di pochi minuti tra Mugnano e Villaricca in provincia di Napoli i carabinieri sono sulle tracce di tre criminali. Arrivano le prime sentenze per il delitto di Marzia Capezzuti, la 26enne milanese torturata e uccisa a Ponte Cagnano da un'intera famiglia a 16 anni di reclusione per il figlio minore e la coppia già recluso a Nisida. Tragico scontro che costato la vita a una trentenne nelle acque di Napoli ripreso e il sistema di videosorveglianza nelle immagini sono del tutto nitide, un motoscafo in gradi e dimensioni nel momento dell'impatto. Il Stato ha arrestato un 40enne che fingendosi in un maresciallo ha truffato decine di persone per la compravendita di orologi di russo a casa sua ritrovati Rolex per decine di migliaia di euro mai pagati. I numeri della raccolta differenziata premiano Napoli, resta il gap rispetto alla capitale ma grazie a investimenti e assunzioni in 13 anni si è passati da un più 25%. L'impresa della Delfest Avellino che batte Montecattini a Proda in Serie A2, il basket Irpino torna alla massima serie per il calcio mentre a Napoli il resto è il gelo con Di Lorenzo, Avellino incontro per programmare il futuro. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Prima TV, un assessore del comune di Caserta, due dirigenti e un dipendente dell'ente e un imprenditore sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine sull'affidamento dei lavori pubblici, le ipotesi di reato contestate sono corruzione e falsità in atti pubblici. L'inchiesta è partita due anni fa sotto la lente della procura di Santa Maria Capoavetere legare per l'affidamento di lavori pubblici nel comune di Caserta. Strade, illuminazione e non solo. Alcuni affidamenti, questa l'ipotesi investigativa, sarebbero stati pilotati attraverso gli uffici comunali e con la connivenza di un esponente del governo cittadino, l'assessore ai lavori pubblici e alla Polizia Municipale Massimiliano Marzo. Gli inquirenti hanno passato al setaccio documenti, atti pubblici, acquisito informazioni anche attraverso intercettazioni telefoniche, fino al blitz con numerose perquisizioni scattato questa mattina quando i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno arrestato cinque persone, tutte ai domiciliari. Tra queste c'è appunto l'assessore dell'attuale giunta comunale Massimiliano Marzo e poi i dirigenti Franco Biondi e Giovanni Natale, il dipendente comunale Porfidi e l'imprenditore Gioacchino Rivetti. Le ipotesi di reato per i destinatari dei provvedimenti restrittivi sono truffa, falso e corruzione. Stesso modus operandi, stessa descrizione, stessa zona, potrebbe esserci la stessa banda di rapinatori dietro le tre rapine messe a segno nel giro di pochi minuti tra Mugnano e Villaricca in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Marano sono sulle tracce di tre criminali. I carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in ordine cronologico in tre distinte rapine presumibilmente effettuate dagli stessi malviventi incappucciati e armati, due armati di pistola e il terzo di un fucile. Il primo esercizio commerciale colpito è un bar a Bianenni di Mugnano di Napoli. I rapinatori in presenza dei clienti si sono fatti consegnare dal cassiere del denaro per poi fuggire. Subito dopo un'altra rapina. I malviventi si sono fatti consegnare il denaro dal dipendente di un distributore di carburanti a Corso Italia, sempre a Mugnano. Il terzo colpo in un'altra stazione di servizio a Villaricca al Corso Europa. I rapinatori prendono il denaro e scappano via a bordo di un'auto. I carabinieri sono impegnati nelle ricerche dei rapinatori, si stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ha partecipato attivamente alle torture e all'uccisione di Marzia Capezzuti, la 26enne milanese è morta a Ponte Cagnano, segregata per mesi da una famiglia. Poi, ritrovata morta in un casolare, il figlio minorenne della coppia, già recluso nel carcere di Misida, è stato condannato in primo grado a 16 anni di carcere. La giovane, fragile e con disturbi psichici, era arrivata a Ponte Cagnano, nel Salernitano a ridosso della Piana del Sele per amore. Il fidanzato purtroppo era morto e lei era rimasta lì, ospitata in casa da una tale Barbara, la sorella del giovane. Il resto è trama di un film dell'orrore. Marzia sarebbe stata vessata, siliziata, torturata. Legata in cantina picchiata, le sarebbero stati sottratti ogni mese i soldi del suo assegno di invalidità. Il 6 marzo 2022, l'epilogo, Marzia viene portata via da casa e scompare così nel nulla. Sette mesi dopo il suo corpo venne ritrovato in un casolare di Monte Corvino Pugliano. La storia fu portata alla ribalta dalla cronaca della trasmissione Rai, chi l'ha visto. Il tragico scontro che è costato la vita a una ricercatrice di 30 anni nelle acque di Napoli, ripreso dal sistema di protezione di una villa locale. Nelle immagini non del tutto nitide si nota un motoscafo di grandi dimensioni nel momento dell'impatto. Vanno avanti le indagini per far luce sulla morte di Cristina Frazzica, la ricercatrice di 31 anni, travolta mentre era in canoa assieme a un amico domenica scorsa nelle acque di Posillipo. La svolta due sere fa, quando in procura è stato convocato il proprietario della barca individuata attraverso due video. Due ore di interrogatorio per il primo indagato, l'avvocato Guido Furgiuele, che in questa vicenda è passato da soccorritore a indagato numero uno. Ha infatti prestato soccorso all'amico della donna, ma adesso compare come presunto responsabile dell'investimento avvenuto a largo di 30 rimi. Il penalista, accusato di omicidio colposo, ha spiegato «Io e i miei sei ospiti non abbiamo avvertito alcun impatto. Uno dei miei ospiti ha visto a poppa un ragazzo sbracciarsi e siamo tornati indietro per soccorrerlo. Lui ha detto che la ragazza era stata investita da una barca velocissima ed eravamo convinti che non fosse la mia. Più di soccorrerlo e dare l'allarme non potevamo fare». Si lavora sulle immagini ricavate dal sistema di videosorveglianza di Villa Rosberi. Sono due i video finiti agli atti. Immagini non del tutto nitide. Si nota un motoscafo dalla grossa chiglia che va ad impattare contro la canoa su cui viaggiavano Cristina e il suo amico. Non è chiaro dalle immagini se i due ragazzi sono riusciti a saltare via dalla canoa, provando a evitare l'impatto con lo yacht. La procura ha sequestrato altre imbarcazioni oltre quella di Furgiuele e sono andati avanti audizioni e interrogatori di soggetti a vario titolo coinvolti in questa vicenda. Tra le imbarcazioni sospette tra queste c'è la barca di Guido Furgiuele. Verranno ascoltati gli altri ospiti dell'imbarcazione finita sotto sequestro e ci saranno verifiche anche su altri natanti che potrebbero essere ricondotti all'incidente di domenica scorsa. Alta tensione nel carcere minorile di Airola nel Beneventano, come riferisce Sabatino De Rosa, vice coordinatore regionale per il settore minorile per la regione Campania del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria. Ancora una volta si è verificato nell'IPM sannita un grave episodio di violenza tra detenuti italiani nell'Interland napoletano e salernitano che ha destato non pochi problemi. L'episodio è avvenuto nell'orario dei passeggi dei detenuti nel campo sportivo dove è avvenuta una rissa di circa sette detenuti. La Polizia Penitenziaria è subito intervenuta a sedare la rissa e allontanare gli artefici e si è fatto ricorso al medico dell'IPM per le cure del caso. I protagonisti sono stati denunciati per rissa ma ad oggi non risultano ancora provvedimenti disciplinari interni. E' stato arrestato dai carabinieri di San Nicola la strada un 46enne che fingendosi un maresciallo ha truffato decine di persone per la compravendita di orologi di lusso. A casa sua ha trovato i Rolex per decine di migliaia di euro mai pagati. Si fingeva un maresciallo alle forze dell'ordine. Il 46enne tratto in arresto dai militari e la stazione di San Nicola la strada ha ritenuto il responsabile di truffa aggravata. L'uomo sfruttando la fiducia dei cittadini negli appartenenti alle istituzioni adescava su siti di compravendita ignare vittime intenzionate alla vendita di orologi di valore che si faceva sistematicamente spedire tramite corriere prima di sparire nel nulla senza provvedere al pagamento pattuito. Un Rolex GMT Master e un Tudor Big Block del valore complessivo di 18.000 euro sono stati il suo ultimo bottino spediti da un privato cittadino al quale tra l'altro il finto maresciallo aveva fatto credere che uno dei due citati orologi fosse di provenienza illecita e in merito al quale pertanto avrebbe avviato dovuti accertamenti ma la vittima ha intuito il raggiro ha allertato il locale comando stazione Carabinieri nel cui territorio era stato spedito il pacco contenente ai beni di lusso permettendo così ai militari di individuare il soggetto che è stato fermato proprio mentre si accingeva a ritirare da un corriere l'ennesimo pacco. Durante la perquisizione effettuata presso la sua abitazione a Castelvolturno è stato rinvenuto un ulteriore Rolex, vari telefoni cellulari con schede intestate a soggetti terzi e un pc dalla cui cronologia sono emersi numerosi contatti per la compravendita di orologi. Inoltre proprio mentre i Carabinieri svolgevano queste operazioni sono giunte chiamate da parte di un ragazzo calabrese anche egli vittima della medesima truffa che lamentava il mancato pagamento di un Rolex Submarine modello Hulk dal valore di 14.500 euro. L'uomo peraltro già gravato da numerosi precedenti di polizia per analoghi reati è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. I numeri della raccolta differenziata premiano Napoli, resta il gap rispetto alla capitale ma grazie a investimenti e assunzioni in 13 anni si è passati da un più 25%. Nel 2011 era al 18 ma la strada è ancora lunga. La raccolta differenziata a Napoli si attesta al 43% l'obiettivo è portarla al 50%. I dati sono stati resi pubblici durante il Green Med Symposium degli Stati Generali dell'Ambiente inaugurati alla Mostra d'Ostremare del Capologo Campano. In parallelo migliorare la qualità della differenziata soprattutto per quello che riguarda la raccolta dell'umido. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi affrontando il tema uno dei più spinosi che ha impegnato negli ultimi anni a turno e le amministrazioni che si sono alternate a Palazzo San Giacomo. Manfredi ha ricordato gli investimenti che il Comune sta effettuando nel settore dal punto di vista organizzativo con il nuovo parco automezzi e le assunzioni di personale in Asia incrementando il porta a porta e ha sottolineato dal punto di vista dell'impiantistica è stato firmato il contratto per il nuovo impianto di compostaggio a Ponticelli che sarà il primo impianto nel territorio della città. La raccolta differenziata della regione Campania nel 54% dati pubblicati dall'ISPRA. Napoli è di molto al di sotto della media, non ci sarebbe da gioire troppo ma le parole di Manfredi hanno un senso se si va indietro nel tempo e si valuta il punto di partenza. Nel 2021 era del 37%, 10 anni fa del 18% e 4%. Raddoppiati i valori nell'amministrazione dei Magistris. La gestione di Manfredi ha dato una grande accelerata, dunque i risultati si vedono ma la strada è ancora lunga da percorrere. In casa Napoli tiene banco la grana di Lorenzo dopo l'incontro tra le parti, è calato il gelo con il capitano ancora intenzionato a salutare. Intanto De Laurenti si aspetta l'offerta giusta per Osimè. Giovanni di Lorenzo, sempre più lontano dal Napoli, non trapela nessuna buona notizia dal ritiro della nazionale. Il capitano, in conferenza, avrebbe potuto allontanare le voci di un suo imminente addio, ma si è limitato a dire «Il Napoli sa, ho parlato con la società appena finito il campionato, quando sarà il momento ci metterò la faccia, come ho fatto durante tutta la stagione, e non mi tirerò indietro». In ogni caso si tornerà a discutere della questione dopo l'europeo. L'unica cosa che gli preme è capire se sabato Spalletti lo farà giocare titolare oppure no contro l'Albania nell'esordio dell'europeo, perché nel nuovo modulo della nazionale il CT azzurro potrebbe optare per Darmian esterno a destra nella difesa a tre. Di Lorenzo sa della stima di Conte che gli ha spiegato il Napoli che sarà con il ruolo anche da manager per il nuovo allenatore azzurro, con De Laurentiis poco presente alle prese con i piani per lo stadio e per il nuovo centro sportivo. Conte, è un onore avere lui come allenatore, così come avere Spalletti, ha dichiarato Di Lorenzo. «Io sono serenissimo, sto preparando il secondo europeo, la mia concentrazione è altissima. Per me che ho fatto un percorso venendo dal basso, raggiungere un secondo europeo è motivo di orgoglio. Voglio far bene per accantonare un po' la stagione mia e del Napoli che è stata dura». Nel Tg Sport di oggi spazio all'impresa della Delfe Savellino che batte Monticatini e da proda in Serie 2. Il basket Irpino torna così nella massima serie. E poi l'Avellino di D'Agostino che ieri sera ha tenuto il primo incontro con Perinetti con No Estrano. Oggi il futuro di mister Michele Pazienza. Spazio anche alla Juve Sabia. In dubbio il direttore sportivo Lovisa. Ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco restate con noi. Ben ritrovati per la seconda parte del telegiornale. In un videomessaggio, Jolier si stringe affettosamente alla famiglia di Roberto Bembo, il 21enne di Marco Iano ferito a morte all'alba di Capodanno dell'anno scorso. Il rapper da sempre vicino ai genitori e agli amici di Roberto. Ciao, un bacione da Jolier alla famiglia di Roberto. Ciao. Jolier manda un bacione alla famiglia di Roberto Bembo. Un videomessaggio di pochi secondi che però riscalda i cuori di mamma Cinze, papà Gerry e i fratelli del ventenne di Mercogliano. Deceduto all'ospedale Moscati l'11 gennaio del 2023 dopo essere stato accoltellato all'alba di Capodanno e via nazionale a Torrette di Mercogliano. Jolier era un idolo di Roberto. Bembone, così come affettosamente lo chiamavano gli amici perché è un uragano di simpatia, altruismo e positività. Seguiva il rapper napoletano dagli inizi. Conosceva a memoria i sudesti che riescono ad emozionare e coinvolgere i giovani. Già tempo fa Jolier aveva lasciato un suo autografo su una t-shirt di un amico di Roberto, dimostrando così la sua vicinanza ai ragazzi che da quando il ventenne è volato via non si sono mai persi di vista, stretti in un abbraccio che sigla un patto d'amore eterno insieme alla famiglia Bembo. Da 7 a 9 giugno scorsi si è tenuto presso il Mercurio Sporting di Mercogliano il memorial promosso dagli amici nei giorni dell'onomastico del compleanno di Roberto. Non è un addio, un vuoto incolmabile per noi la tua assenza, hanno scritto i ragazzi su degli striscioni di recente. Dalla tragedia immane un'onda inarrestabile di affetto che ha invaso Mercogliano, lungo e largo, superando i confini della vita, riuscendo ad accarezzare il cielo lì dove è arrivato anche il bacione di Jolier. Ciao un bacione da Jolier alla famiglia di Roberto, ciao. Dopo l'annuncio di Ryanair salgono a tre le compagnie che inizieranno a volare l'11 luglio da Costa ad Amalfi, ma restano poche le linee di voli nazionali e internazionali attive mentre è corsa contro il tempo per terminare i lavori interni ed esterni dell'aeroporto. Più ombre che luce ad un mese dall'inaugurazione del secondo aeroporto della Campania, il Salerno Costa ad Amalfi. L'11 luglio sono previsti i primi voli delle compagnie EasyJet e Volotea ai quali si aggiungerà Ryanair che però non ha ancora comunicato le rotte previste. Per ora si potrà viaggiare solo su nove destinazioni, Cagliari, Nantes, Catania e Verona per Volotea, Milano Malpenza, Londra Getwick, Basilea, Ginevra e Berlino per EasyJet. Non saranno voli quotidiani ma con frequenza bisettimanale o trisettimanale. Se la pista allungata a 2200 metri ormai pronta e dotata dell'impianto di illuminazione, le strade d'accesso non sono state ancora tutte asfaltate né liberate da canneti, erba alte e rifiuti abbandonati lungo la gareggiata che costeggia i binari della vicina linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Proseguono senza sosta anche i lavori all'interno del piccolo terminal che ospiterà per ora solo due gate e servizi essenziali per i passeggeri, in attesa della realizzazione del nuovo terminal nel 2026 che sorgerà sul lato opposto dell'aeroporto. La guardia costiera di Palinuro ha sequestrato due anfore antiche trovate in possesso di uno sportivo subacqueo. Si tratta di reperti risalenti ad epoca romana e trafugati da un fondale marino. La sovrintendenza ha fatto valutare i reperti e ha ritenuto il valore tale da sottoporli a tutela del patrimonio culturale. I messi sul mercato nero avrebbero fruttato diverse migliaia di euro. L'uomo presso il suo domicilio sono stati trovati i vasi e è stato denunciato e multato. Il nuovo palazzetto per sport e concerti nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di Napoli costerà 54 milioni di euro interamente a carico dei privati presentato il progetto per una struttura da 14 mila posti. Il basket in primo piano che dalla vittoria delle Final 8 di Serie A vive un particolare momento positivo e poi tutti gli altri sport. Ad ospitare tutto questo il nuovo palazzetto di Napoli che dovrà sorgere nell'area del centro direzionale. Una nuova struttura di respiro internazionale che oltre allo sport dovrà essere una location all'avanguardia per concerti e altri eventi di carattere su scala nazionale e perché no anche di livello internazionale. Il costo totale dell'operazione si agirebbe intorno ai 54 milioni di euro. Per ora siamo alla base del progetto. Quel che è certo è che Italstage SRL, SS Napoli Basket SRL hanno ufficialmente protocollato presso il comune di Napoli un project financing ad iniziativa privata per la realizzazione del nuovo palazzetto entro il 2026. L'area individuata corrisponde all'insediamento dismesso dell'ex mercato ortofrutticolo comunale. Si punta ad avere una capienza di 10.000 posti per quanto riguarda gli appuntamenti sportivi, capienza che invece potrà aumentare di 4.000 unità per gli eventi legati all'intrattenimento di ogni tipo. E si punta anche a rendere autonomo il palazzetto dal punto di vista della produzione energetica grazie agli impianti per l'utilizzo di energia rinnovabile. Da sottolineare inoltre un parco urbano previsto nel progetto di 44.000 metri quadrati che dovrà sorgere nel perimetro della struttura. Un contributo reale di progettualità ed investimento per alzare sempre più l'offerta di un territorio che può puntare ad essere leader nel mondo per attrattività e senso di ospitalità. Queste le prime dichiarazioni sul progetto dell'ingegnere Vito Grassi, presidente di Graded S. Piano, che è azionista della SS Napoli Basket, insieme a fratello Federico Grassi. Sono 150 eventi gratuiti per la terza edizione della fabulazione espressione della Napoli Policentrica, rassegna di teatro, musica e danza fino a novembre, organizzata dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della DG Spettacolo del Ministero della Cultura. Affabulazio per i latini era la morale della favola e Affabulazio è giunto alla sua terza edizione quel programma di eventi che narra la città nella sua visione policentrica attraverso una serie di eventi pensati ad hoc per animare le periferie della città. Presentata questa mattina la nuova edizione di Affabulazio 2024 a Palazzo Cavalcanti, la rassegna di teatro, musica e danza organizzata e promossa dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo Nazionale per lo spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, per la valorizzazione della cultura partenopea attraverso la realizzazione di laboratori e spettacoli diffusi. 20 i progetti selezionati quest'anno che da giugno a novembre creeranno una vera e propria rete tra le sei municipalità coinvolte. Ai nostri microfoni Sergio Locorato, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli. Oltre 320, 20 progetti che sono arrivati ci presenta una contaminazione tra culture, uno dei probabilmente forse l'evento, la rassegna più politica dell'amministrazione perché coinvolge nell'ottica del policentrismo quelle che sono le realtà che una volta venivano chiamate periferiche ma che nella visione del sindaco Manfredi sono i nuovi centri della città. Parte del progetto Affabulazione realizzato circa 900 mila euro è anche la fruizione in chiave inedita di luoghi che solitamente hanno altre destinazioni. Gli eventi e tutte le attività laboratoriali che li accompagnano coinvolgendo attivamente la cittadinanza avranno sede in parchi, chiese, spazi degli istituti scolastici, centri polifunzionali, biblioteche ma anche tra gli altri il centro penitenziario Pasquale Mandato, la riserva naturale, oasi WWF Cratere degli Astroni e luoghi di Napoli come il Centro Direzionale e Piazza Nazionale. E da parte mia è tutto, vi lascio allo sport, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie a tutti.